Innanzitutto c'è una tradizione americana sul gioco d'azzardo, sui film dei grandi giocatori che vanno da California Poker a quello con Steve McQueen che si chiamava Cincinnati Kid e comunque il gioco è molto interessante, anche 4 contro il casino, tutti i film americani dove il gioco ha sempre una parte molto importante, in particolare poi c'era un piccolo particolare che di solito Adriano quando osserva un film, quando prende in considerazione un film per interpretarlo, per girarlo di solito vuole anche una storia che gli piace, siccome lui è un grande giocatore nella vita gli è sempre piaciuto giocare, gioca a poker, gioca a qualsiasi gioco e quindi noi pensavamo che un personaggio, io e Castellano pensavamo che un personaggio di giocatore sarebbe stato molto adatto a lui che conosceva benissimo, per esempio c'è una partita di poker formidabile che lui gioca giustamente da giocatore, non c'era bisogno di parlare anche con qualcuno perché tutti noi, cominciando da Adriano ma finendo anche da Castellano, tutti patiti per il poker tutti i partiti per i giochi, tutti i giocatori a Casinò, quando si fa qualche gita, qualche viaggio o quando dove si lavora c'è un Casinò, credo che però è una cosa un po' di tutti ma in particolare diciamo noi tre eravamo tutti e tre appassionati di gioco per cui veniva facile pensare una storia sul gioco e sui giocatori perché i giocatori hanno dei caratteri particolari, c'è un giocatore che ha le scaramanzie un giocatore che ha i suoi numeri preferiti, un giocatore quando entra in un Casinò entra in un numero ma è sempre quello appena entra e poi da lì parte magari una sequenza quindi ci è venuto in mente anche di formare un gruppo di gente che amasse il gioco perché praticamente il film parlando di gioco li interessava e ci sono trovati a loro agio ognuno nella loro parte più delle volte con Adriano di solito invece si ripassa il copione si guarda, si vede se si può migliorare, di solito lui cerca di dire una frase che ha detto in una maniera nella migliore e più consola, la sua maniera di parlare il suo modo di parlare e quindi delle volte le pause servono anche a questo qualche volta si gioca pure comunque sempre nell'ambito di questo film ci sono stati per esempio anche Cerruti Alfredo Cerruti, amico da Adriano, anche lui altro giocatore, l'ex marito di Mina è produttore discografico allora e adesso autore televisivo e cinematografico insomma diciamo che il gioco piace a tutti perché il gioco ha quelle famose chance negative o positive per cui chi ama rischiare gioca come il personaggio come il personaggio di Asso che tant'è vero Asso per amore del gioco praticamente viene ucciso e questo ecco è il punto fondamentale di Asso che Asso racconta la storia di uno spirito cioè di un grande giocatore di poker che è stato ucciso proprio il giorno in cui si è sposato e quindi deve ritrovare, deve aiutare sua moglie a trovare un sostituto perché vuole che lei trovi un marito adatto a lei e quindi tanto innanzitutto il film andò molto bene ma non benissimo come gli altri però diciamo stiamo sempre parlando di differenze di miliardi, di pochi miliardi perché, e qui Claudia Mori diceva sempre ma voi avete sbagliato, ma questo devo dire lei l'ha detto sempre perché praticamente è come se avessi ucciso Paperino cioè Tovolino, scegli tu e lei diceva che Adriano era così amato, è così amato dalle persone che vederlo morire gli dà un po' una specie di trauma soprattutto all'inizio del film però il film era basato su questo il film come tanti film americani a cui ci siamo sempre ispirato racconta la storia si potrebbe anche parlare di Joey Pilota che è un pilota che è morto e cerca, la sua ragazza che è rimasta cerca prima un po' nel geloso ma poi in fondo lo aiuta a trovare un uomo Edwige Fenech in questo film era la prima volta che lavorava con Adriano Occidentano e sono rimasti subito molto simpatici perché Adriano ne aveva sentito parlare molto Edwige è stata sempre una grande ammiratrice Adriano poi Luciano Martino che era il produttore a quel tempo il film è prodotto da Gori ma a quel tempo Luciano Martino era il produttore di Edwige faceva i film di Edwige in più aveva fatto un film di Adriano che era Zia Adolfo in Arte Führer quindi questa riunione era quasi predestinata dovendo cercare una bella donna lei a quel tempo andava molto forte lui pure quindi si è formata questa coppia l'unica cosa che stonava un po' nella coppia per noi registi era che lei era molto alta perché Adriano anche se è sullo schermo o nel cinema o nella televisione sembra molto alto ma in realtà non è altissimo e allora siccome lui non è certo l'attore che si mette i tacchi magari si può mettere un paio di scarpe con un tacco un po' alto nella vita perché segue la moda però non è che lui quindi lui vuole rimanere sempre se stesso quindi delle volte sede chiaramente che lei è più alta di lui però insomma non gli sta male più lei poi aveva capelli all'insù delle grandi pettinature dei cappellini come nella scena delle corse altro posto dove un giocatore è sempre puntuale dove ci si rega ma mi ricordo particolarmente una cosa che non è avvenuta tanto durante la lavorazione quando dopo la lavorazione addirittura alla fine del film la cosa è questa noi siamo uno scenografo molto bravo che siccome la cosa si è girato tanto per cambiare a Milano prima cosa perché si svolge nei bassifondi milanesi in tutta la parte lì del lungo fiume diciamo addirittura in un posto dove c'erano le lavandaie milanesi diciamo che tutta questa scenografia anche un bar dell'epoca che è stato ricostruito era veramente una scenografia deco quindi Adriano doveva avere una casa particolare siccome però già a Milano a Milano perlomeno per quel momento non c'erano teatri di posa disponibili si è trovato un garage con un signore che era poi un pittore ci ha prestato ha prestato la produzione e in questo garage è stata costruita la casa di Adriano che la casa di Adriano è molto bella sta sui due piani c'è una doccia quasi a vista dove devi già fare perché fateva la doccia c'è il ballatoio c'è un altro punto dove c'è il letto insomma una casa veramente scenografica tanto è vero aveva fatto uno scenografo è molto bella che è successo? che il proprietario di questo garage ha detto scusate sì ma avete pagato tutto quanto è stato pagato normalmente dice però io vi vorrei chiedere un favore mi lasciate questa casa perché è talmente bella che la vorrei tenere e gli ultimi vabbè intanto che dovevano farci che la potevano smontare se la portavano via e quindi le l'hanno regalata lui tutto felice abbiamo saputo che dopo due o tre giorni lui si è buttato sul letto tutto contento e la casa è crollata perché come tutto il letto dentro il garage perché come tutte le cose del cinema era una cosa tenuta insieme con gli spilli tanto per le riprese ma non è che avesse questa solidità da abitarci sopra